Sì, ci tocca tutto il canto. Ci sono tante persone che sono in giro, che credono che fanno sempre una stessa stessa e dicono che non fanno una stessa stessa. Invece non fanno. Sì, vanno fuori per fare un applauso a Gino, sempre a Gino il freddo, perché le parole le faccio chiaro. Il motivo è il Vespaio del Cucco, questo motivo che canto sempre sulla festa di Natale. Le parole le faccio chiaro. sono fine a Bele, perciò è meglio che sappiamo con gli autori delle parole Bele e anche se sono in Piemontale sono sempre belle stesse. che ci sono in Piemontale. Sì, 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 ci sono in Piemontale. Ci sono in Piemontale. Sì, 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 ci sono in Piemontale. Ci sono in Piemontale. e se andiamo in Piemontale. Ci sono in Piemontale. Ci sono in Piemontale. singol bella no e che da l'està madrima e la propria singolina allora per finir e da rivello di che per feita la harina e suma fina o singolina se per cosa non tartalla e un parara canzoni ora da per nendegu singolina e progetti oh singol bella singol bella singol bella no e che da l'està madrima e la propria singolina oh singol bella singol bella no e che da l'està madrima e la propria singolina oh singol bella singol bella singol bella no e che da l'està madrima e la propria singolina oh singol bella Jingle better, jingle better now Deccatare gli stammati in una croncia Andi in cuore Eccatare gli stammati in una croncia Eccatare gli stammati in una croncia Eccatare gli stessi